Buonasera a tutti, benvenuti al corso sulle figure dell'analisi tecnica di investire.biz questo nuovo portale dove tutti possono pubblicare i propri articoli e commentare quelli degli altri siamo molto contenti, il portale sta andando molto bene, ci sono sempre più persone che scrivono sempre più persone che commentano, quindi se ancora non l'avete fatto fatelo anche voi allora oggi un corso molto interessante a completamento del corso sugli indicatori dell'analisi tecnica oggi appunto vediamo le figure dell'analisi tecnica cosa sono le figure dell'analisi tecnica? le figure dell'analisi tecnica sono delle conformazioni che si trovano sui grafici quindi delle figure appunto che si trovano sui grafici che sono state codificate cosa significa? sono state codificate? significa che negli anni dopo tante 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 osservazioni appunto sono state, si è visto che ogni qualvolta che si propongono danno, davano dei risultati, dei risultati sempre molto molto simili tra di loro cosa vuol dire? nella fattispecie se per esempio prendiamo la figura del testa e spalle che tante volte si presenta sui mercati finanziari del forex, degli indici cosa vuol dire che è stata codificata? significa che è stata vista per tante 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 volte ogni volta ha portato i prezzi a muoversi in una determinata direzione di conseguenza appunto nel momento in cui si ripresenta ci si aspetta che l'andamento dei prezzi sia simile a quello che c'è stato in passato quindi di fatto le figure dell'analisi tecnica sono un modo per cercare di interpretare i movimenti del grafico in base a quello che è successo nel passato ovvero la sioma su cui si basa l'analisi tecnica in particolare le figure dell'analisi tecnica è il seguente ovvero se in passato il mercato si è mosso in un determinato modo significa che le persone che erano presenti in quel momento hanno reagito in un determinato modo nel momento in cui i prezzi si sono comportati così di conseguenza sono alte le probabilità per cui i prezzi si muoveranno esattamente come l'altra volta questo diciamo è la sioma di base sul quale si fonda la teoria delle figure dell'analisi tecnica io dato che però abbiamo un po' di tempo vorrei partire un po' più da lontano vorrei partire da dei concetti sicuramente molto interessanti anche se sono abbastanza semplici e banali probabilmente molti delle persone che stanno partecipando oggi già li conoscono ma abbiamo tempo per cui li possiamo tranquillamente vedere infatti dobbiamo sempre ricordare da dove arriva l'analisi del grafico qual è l'origine dello studio dei grafici infatti si tende per esempio utilizzando gli indicatori utilizzando tantissimi strumenti che sono magari anche molto avanzati a dimenticarsi quelle che sono le basi proprio dell'analisi tecnica e nella fattispecie per esempio ci si va spesso a dimenticare di quelle che sono le fasi che il mercato ha ovvero la fase di accumulazione dove di fatto i prezzi viaggiano si muovono in laterale per poi esplodere in direzione del rialzo la fase appunto della partecipazione la fase della tendenza dove i prezzi appunto assumono una tendenza verso l'alto e una fase laterale appunto dove poi i prezzi diciamo una volta consolidato il rialzo appena effettuato distribuiscono si dice è una fase in cui i prezzi distribuiscono in quanto di nuovo viaggiano un po' in laterale per poi cambiare di nuovo la loro tendenza è molto molto importante conoscere appunto queste basi proprio perché ci si basa su questo assioma ovvero che tutto quello che noi facciamo per studiare i grafici per studiare le figure dell'analisi tecnica lo facciamo per cercare di capire quella che è la tendenza ok quindi quando si va a studiare un grafico e lo possiamo fare con le figure dell'analisi tecnica con gli indicatori con la luna con il sole o con i tarocchi non dobbiamo mai dimenticarci che il nostro obiettivo è sempre quello di individuare le tendenze perché nel momento in cui individuiamo le tendenze noi riusciamo ad ottenere dei profitti ok per esempio vi faccio un esempio che probabilmente se ci seguite spesso già conoscete questo è il grafico dell'euro-dollaro noi eravamo convinti per esempio che in questo periodo all'inizio 2014 i prezzi sarebbero saliti addirittura fino a 1,45 quindi più o meno qua sui massimi del 2011 la verità è che poi lo vedremo ma qui eravamo abbastanza sicuri che ci fosse un triangolo rialzista dopo lo andiamo a vedere a un certo punto però ci siamo dovuti ricredere perché? perché abbiamo avuto l'evidenza che la tendenza era cambiata ok? e l'evidenza la possiamo avere semplicemente per esempio tracciando una trendline e vedere appunto che questa trendline rialzista è stata violata è stata rotta al ribasso quindi per vedere appunto per capire che cosa sono le figure e come vengono costruite la prima cosa che dobbiamo assolutamente fare è metterci in testa che le figure dell'analisi tecnica non sono infallibili questo è assolutamente importante perché nel momento in cui pensiamo che le figure dell'analisi tecnica sono infallibili ecco che facciamo dei disastri incredibili ok? quindi le figure dell'analisi tecnica sono un modo uno strumento che noi abbiamo per cercare di interpretare l'andamento dei mercati ok? quindi non devono essere presi come degli oracoli ma semplicemente attraverso lo studio di queste figure noi dobbiamo cercare di capire dove potrebbe andare il mercato all'inizio del corso dicevo che questo corso va a completare il corso della volta precedente sugli indicatori dell'analisi tecnica ecco importantissimo le figure dell'analisi tecnica sono un pezzo dell'analisi tecnica come gli indicatori sono un altro pezzo dell'analisi tecnica come lo studio delle candele giapponesi sono un pezzo dell'analisi tecnica come lo studio del trend attraverso per esempio le trend line le medie mobile eccetera sono un altro pezzo assolutamente bisogna mettere tutto insieme affinché si possa ottenere una visione di insieme corretta o comunque completa infatti quello che io ci tengo sempre a spiegare durante i corsi che la prima cosa che noi dobbiamo fare quando abbiamo di fronte un grafico è guardare il grafico nel lungo termine perché per esempio chi di voi ha partecipato al corso sugli indicatori dell'analisi tecnica si ricorderà che abbiamo visto questa struttura di grafici dove abbiamo un grafico a 15 minuti sulla sinistra e un grafico a 5 minuti sulla destra di recente mi è capitato di prendere dei segnali da questo sistema che alcune volte sono andati molto bene e ci mancherebbe perché questo che vediamo qui con gli indicatori è un ottimo sistema di trading ma altre volte mi sono trovato male perché magari anche un po' di fretta poi ovviamente si può sbagliare ma non era stata fatta un'analisi di più lungo periodo e mi ero perso magari qualcosa che invece su un time frame un po' più ampio come per esempio un grafico a 4 ore si vedeva in maniera molto molto chiara ok quindi adesso togliamo le medie mobili che in questo caso ci confondono solamente ecco qua lasciamo solamente una media mobile a 200 periodi che comunque rimane sempre una media mobile da avere sempre sui grafici perché davvero è molto molto importante la prima cosa quindi che io vi consiglio di fare prima ancora di parlare di figure dell'analisi tecnica è di partire dal grafico settimanale e scendere pian pianino verso il grafico più basso quindi arrivare per esempio fino al grafico a 4 ore nella fattispecie nella fattispecie se noi prendiamo per esempio il grafico settimanale e in questo caso abbiamo di fronte l'indice italiano ok ci accorgiamo di una cosa sicuramente molto molto interessante guardando mi raccomando l'indice settimanale vediamo per esempio che se facciamo uno studio del trend di questo grafico ci accorgiamo subito di una cosa molto molto interessante per esempio vediamo che tracciando una trend line sui minimi del 2012 e del 2013 abbiamo una trend line che ha respinto nonostante una visita sotto i 18.000 che ci aveva assolutamente fatto pensare che i prezzi sarebbero continuati a ribasso ma ragionando con il grafico settimanale vediamo un mercato che è ancora in tendenza positiva e che dai massimi in area 22.600 altro non ha fatto che è un bel ritracciamento per poi ripartire verso l'alto un'ottima considerazione da questo punto di vista sempre sul grafico settimanale la possiamo fare guardando la media mobile a 200 infatti signori i prezzi sono stabilmente al di sopra della media mobile a 200 periodi ok quindi la primissima cosa da fare assolutamente prima di guardare qualsiasi figura dell'analisi tecnica andare alla ricerca di qualsiasi figura dell'analisi tecnica è basilare fare uno studio delle tendenze ok questo è importantissimo e soprattutto questo davvero potete segnarvelo e prendere un bel appunto studio delle tendenze e soprattutto studio dei supporti e delle resistenze ok il livello di 18.000 punti che vediamo qui su questo grafico perché era così importante non perché non solo perché il livello di 18.000 punti è un bel livello intero pieno e rotondo tra virgolette ma perché guardate se io allargo il grafico cosa succede guardate ecco l'ho allargato troppo scusate però molto semplicemente il livello di 18.000 è un livello che già in passato aveva fatto rimbalzare a tirare un livello agli Grazie a tutti